Vallovidiana Sulmona è il derby peligno della promozione, giocato in mattinata a Raiano, ma valido come gara casalinga dei Biancorossi. Le due squadre si sono affrontate davanti ad una buona cornice di pubblico in una giornata soleggiata, con temperature al di sopra della media stagionale. Tutti a disposizione di Candelui di Felice, che propone il solito 4-3-3, mentre Gianluca Casanova, a causa delle diverse assenze, è stato costretto a schierare una formazione rimaneggiata, che ha visto l'attaccante Saponaro nell'inedito ruolo di difensore centrale. Nei primi minuti non accade nulla di rilevante, per i sulmonesi la gara è tutt'altro che facile, contro Raiano, che non è affatto rinunciatario. Al ventunesimo Lovidiana Sulmona lamenta un tocco con il braccio in area di Saponaro, ma di Florio di Lanciano lascia proseguire. Prova a salire in cattedra il Sulmona con Sapon, che è bravo ad avanzare, ma la sua conclusione viene parata da Stivaletta. Due minuti dopo all'offside, ferma un'azione d'attacco con Aquino. La squadra di Di Felice non riesce ad incidere, anche per merito del Raiano, che si copre bene per tutto il primo tempo. Poco dopo la mezz'ora, precisa azione del Sulmona, Pacella De Vincenti-Saquino, con palla di nuova Pacella, che con un sinistro da fuori manda di poco in out. Sul finire Silvestri ruba palla, partendo in velocità, assist per De Vincentis, che serve di tacco Pacella, il quale fa filtrare la palla in area, ma Aquino viene chiuso e l'azione sfuma. Al quarantacinquesimo esatto, conclusione di González Rodriguez, imparata in due tempi di Stivaletta. Si va a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con un pericolo di Lovidiana Sulmona, corner di Pacella, ed in area schiaccia di testa del Gizzi, con la palla che passa vicino all'incrocio. Al quarto lancio di Silvestri per Aquino, che dentro l'area esegue l'assist per Coletti, ma sul tiro del numero 8 sulmonese, il portiere Stivaletta si salva in calcio d'angolo. Il Raiano si vede con un tiro di Luzzi terminato alle stelle e negli istanti successivi, sempre con il numero 9, che non riesce a girare in porta, una palla giunta in area in seguito ad una punizione di Zaccagnini. Pacella su punizione manda di poco fuori, al 26esimo a Lulli, entrato al posto di De Vincentis, ruba palla ad un avversario e fa partire l'azione che porterà al gol del vantaggio. Pacella scambia con Coletti, il quale serve González Rodriguez, lo spagnolo mette in mezzo e Matteo Pacella calcia a botta sicura per l'1-0 dell'Ovidiana Sulmona. Il Raiano dovrà cedere anche successivamente, in seguito alla manovra insistente della squadra di Di Felice. I rosso-blu provano a sfruttare una punizione di Giovanni Verrocchi, mancando però una rovesciata in area. Al 37esimo azione di Sulmonissi con il colpo di testa di Allulli parato da Stivaletta. L'estremo difensore rajanese viene chiamato nuovamente all'intervento, quando è bravo ad opporsi ad una botta di Aquino. Il raddoppio è nell'aria. L'azione parte dalla metà campo ovidiana, grazie a Tuzzi che ruba il pallone all'avversario, segue poi l'apertura di Safon per Allulli e il successivo servizio per Orlando Aquino, che scatta in velocità e in area supera tutti, concludendo positivamente il rete per il 2-0, che chiude i conti. Il Raiano ha fatto quel che poteva, riuscendo a mantenere il pareggio per gran parte del match. L'uvidiana Sulmona, nonostante tanta fatica per sbloccare il risultato, prende e porta a casa tre punti fondamentali per la lotta al vertice.